Note le dichiarazioni del ministro Tremaglia Beh, abbiamo chiesto alla gente ma gli omosessuali sono davvero tanti ma l'omosessualità soprattutto è un peccato? Lei ha seguito quello che ha detto il ministro Tremaglia sul caso dell'Europa e c'è una lobby di culattoni secondo lui? Sì, e mi sembra insomma che la dica lunga sul personaggio che ha pronunciato una simile fesseria Sento, posso dare un bacio? Grazie Ma secondo lei sono tanti gli omosessuali in Italia? Credo di sì Lei ne conosce qualcuno? Qualcuno sì Lei è omosessuale? Sì Un poco? Assai Guardi che la mando in onda questa Ha mai baciato un uomo? Eeeh, no Ah, lei uscirebbe con me stasera No Non darebbe un bacio? No Come è? Un bacio di che cosa? Ma ragazzo come è stato? Ho cambiato idea Uscirebbe con me stasera? Assolutamente no Come è? Un bacio di che cosa? Dipende dalla compagnia con cui sta Siamo io e lei Sembra simpatico Un nome di candela Una bella cenetta? Si può fare o che azzurri? E magari dopo Posso dargli un bacio? Come è? Un bacio di che cosa? Un bacio di che cosa? Un bacio di che cosa? Posso dargli un bacio? Un bacio di che cosa? Eeeh, sa che è una bella maglietta Dicevo Ha niente contro gli omosessuali? Ma personalmente Nulla da eccepire Perché ci sia rispetto reciproco Per tutti quanti Sai che lei è molto carino Cosa fa stasera? Torno a casa da mia moglie Senta, posso dargli un bacio? Baci di che cosa? Baci di che cosa? Senta, ma io posso dargli un bacio? Certo, dammelo Baci di che cosa? Guardami negli occhi Ma usciresti con me stasera? No A me hai baciato un uomo? No mai Ma il rapporto Tra due persone Dello stesso sesso E' un peccato? E' un peccato E' logica E' un peccato Peccato grande Che gel usa lei? Che gel usa? Senta, mi dica Ma perché si va? Due uomini Che fanno sesso insieme Fanno peccato A voi che fanno peccato? Per me è una cosa male Senta, posso dargli un bacio? Come no? Baci di che cosa? Senta, posso dargli un bacio? Baci di che cosa? Senta, uscirebbe con me stasera? No, no L'omosessualità E' un peccato No Non credo Mercy